Ciao, sono Francesca, ho 12 anni e vengo da Nicolosi. Oggi ho portato Alleluia perché secondo me è una canzone con cui io riesco a far mandare delle emozioni e anche una canzone che mi rappresenta moltissimo. Grazie. Grazie a tutti. Alleluia, 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 Alleluia 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia 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 Alleluia